Allora, oggi Alberto, te lo dico, lo dico in regia, seguimi un po' perché devo dire delle cose con un certo stato d'animo. Intanto però all'inizio un ringraziamento che va agli amici di Sport in Famiglia, che sono in questi giorni al laghetto dell'Euro. Non è assolutamente un fatto pubblicitario, io stamattina sono stato da loro e sono stati magnifici, grazie a Fabio Bertolacci, al papà del giocatore ex della Roma e ora del Genova che organizza questa manifestazione bellissima con tutte le famiglie, con tutti i bambini. Il mio problema è stato, che vedete, sembro di essere stato forse alle Maldive, in realtà ero collegato con Sky, guardate che bello, guardate che immagini di gioia. In realtà ero lì e con due ore, col sole in fronte, è stata... beh, comunque mi sono abbronzato, almeno questa è una cosa positiva, così come è stata invece realmente positiva tutta la manifestazione e lo è, che ormai la fanno da un po' di tempo. Il mio ringraziamento oltre al grande Bertolacci va a Giovanna Palombini che mi ha assistito in una maniera straordinaria e a tutti coloro che sono lì, ci sono 200 ragazzi di scuole, di alternativa al lavoro, che danno una mano. E perché vi parlo di questa cosa così piena di colori, no? Questo che state vedendo in questo momento, che è veramente una cosa bellissima. Perché almeno questa mattina ho passato qualche ora di sport puro e allora adesso ritorno invece a quelli che sono i 100 passaggi di oggi che su cui ho meditato molto, non ho preparato niente, non ho mai preparato gli editoriali miei. Ho meditato se parlarne o non parlarne. Allora, cominciamo con i fatti meno gravi di questo mondo del calcio che non mi piace più. La verità è questa, non mi piace più. Amo il mio lavoro, ho passione per il mio lavoro, ho passione per un calcio che non ritrovo. E soprattutto non ritrovo quelli che lo seguono, non ritrovo aggregazione con loro. Forse il grande pericolo è Facebook, Twitter, che ti fa leggere, ti fa vedere. Comincio con il fatto meno grave e poi vado a quello più grave. Quello più grave ovviamente è Liverpool. E per tanto tempo in questi giorni ho detto, oltre che scrivere, ne parlo, non ne parlo. Vediamo cosa scrivono gli altri, cosa dicono gli altri. Poi io non ce la faccio più, poi non ce la faccio più. Quindi parlo. E parlo anche sempre con un po' di paura, perché la paura esiste. Esiste. Io me la porto appresso da tanti anni quando ho fatto le mie battaglie. Quando andando a casa dovevo sempre guardarmi alle spalle, oppure negli studi televisivi si arrivava qualche modo. Ma non per questo ero coraggioso. No, no, io ho paura. Però poi c'è qualche fuoco dentro di me che magari mi fa dire delle cose. Ma per farvi capire dove questo calcio comincia a essere malato, perdonate la parolaccia, eppure nelle cazzate. Allora, io questa mattina ero ospite a Sky, ero collegato fuori, e quando sei collegato fuori non riesci a sentire, avere il monitor lì. C'è l'amico Renato, che poi stasera ho chiamato per consulenza a Chidiacono, il nostro penalista, che è venuto, ha visto come eravamo. Cioè io non vedevo niente e a stento sentivo. Quindi non potevo porre io degli interrogativi o delle domande, perché se sei ospite non puoi farlo, puoi solo rispondere. Ma su una cosa sono certo, sulla straordinaria onestà intellettuale, l'ho anche scritto di Stefano Meloccaro e del gruppo. Insomma, l'accusa qual era? Che io non avevo parlato male di Orsato. Non è venuto il discorso con me. Cioè adesso non voglio mettermi qui a parlare di quello che è stato l'arbitraggio o no. Ma c'è questo odio anti-juventino che potrebbe anche avere delle radici nel passato, delle motivazioni. Ma sempre odio è. E l'odio non ha nulla a che fare con la passione sportiva. L'odio è una cosa brutta, è una cosa demoniaca, è una cosa che non serve a niente. Il male crea male. C'è proprio l'odio. Perché su alcune cose proprio ho letto delle cose indicibili. Poi qualcun altro mi ha scritto addirittura, beh, oltre a te di Roma, se poi vuoi lavorare a Sky, così diventi pure, adesso stai facendo pure lo Juventino. Allora, a me. Nel senso che io non ho mai detestato la Juve. Anzi, se lo volete sapere, l'ho sempre avuta anche in gran parte in simpatia, no? Ok? Vivo con mia moglie, con la mia compagna, 28 anni, che è tifosa della Juve. Quindi immaginate se io posso avere qualcosa contro la Juve. Ma, se dobbiamo discutere sullo scudetto, c'è una cosa che ancora mi appassiona come grande idea. È quella di tornare 30 anni dopo a Napoli per poter fare la grande attesa dello scudetto, che rimane una trasmissione che ho fatto per 24 ore e che ancora adesso mi procura gioia. Quindi pensate se io posso andare contro il Napoli a favore della Juventus. E siccome poi l'ho scritto, allora sono arrivati gli Juventini che mi hanno detto, ma perché tu lavori a Napoli, ti credo che scrivi così? No, io sono due anni che non lavoro a Napoli, tanto per dirne una. Ma perché io parlo con questa cosa qui? Non parlo né col portafoglio e né con la testa in una certa chiave. Ma perché vi ho detto questo? Per far capire come è degenerato questo cazzo di mondo del calcio, che prima era un'altra cosa. Prima io mi sfottevo per anni da ragazzo con Alberto Mandolesi, ci facevamo le scommesse con i romanisti, con gli amici romanisti. E rimangono amici romanisti. E adesso si scadono i calciari, come si fa questo? Perché è così. E qui andiamo al fatto grave. Andiamo a Liverpool per un attimo. A Liverpool succede una cosa terribile. Nel momento io non voglio né accusare una persona o un'altra, perché poi è stato recuperato le motivazioni. Non credo che sia un tentato omicidio, perché per il momento non è così. Non sappiamo nulla di preciso. Sappiamo una cosa, che c'è un tifoso del Liverpool pestato e che sta per morire. Questo sappiamo. E questa è una realtà. Chi, come, perché, non darò né parola contro uno o contro l'altro, perché non so. E la mia civiltà di persone, quella giuridica, mi impone di non dire niente a proposito delle persone che l'hanno fatta. Ma del fatto sì. Il fatto fa schifo. E se Pallotta ha il coraggio di dire certe cose, fa bene Pallotta a dirle. E sono quelli che sono vicini ai delinquenti. Ce ne sono tanti in Curva Sud. Io la Curva Sud l'ho vista nascere. Io ero un amico del Commando Ultra, Pursa della Lazio. Ero molto rispettato. C'è tanti ragazzi per bene. Quelli che hanno pestato uno per terra, non sono per bene. Vengono qua, vengono a dirmi qualcosa. Perché hai rotto l'omertà, perché hai rotto... Non me ne frega niente. Non può chi fa il mio lavoro non dire che non sono persone per bene. Ma non dico. I romanisti sono assassini. Così come non bisognava mai dire i laziali sono nazisti per quello che riguarda le famose figurine di Anna Frank. Ma la cosa più schifosa è quello che leggiamo tutti i giorni. No, sei peggio te perché tu hai ammazzato due persone o forse tre e quell'altro no perché l'altro l'ha ammazzato. Tu invece sei nazista perché gli ebrei eccetera eccetera. O perché hai fatto buh. No, sei meglio tu, sono meglio io. No, fanno schifo tutti. Poi, se c'è l'omicidio, l'omicidio è più grave ovviamente di qualsiasi manifestazione di carattere politico. Se anche fa schifo, perché lo voglio ricordare, non sono solo quattro figurine quando tu parli di Anna Frank. Magari quelli che l'hanno messa non sanno neanche di chi stanno parlando. Ma Anna Frank è il simbolo, è il simbolo dell'Olocasto. E ci sono milioni di persone e ci sono tanti cittadini di Roma che hanno parenti ebrei e che hanno avuto morti, feriti, stragi per cui quello non fa bene. Poi, poi, la generalizzazione che è stata fatta nei confronti della Lazio è la cosa terribile e dei laziali. Non siamo tutti nazisti. Non siamo perché ancora mi ci sento. Così come i romanisti non sono assassini. E facciamola finita con questa classifica delle nefandezze. Facciamola finita. Lo ammetto. Questo mondo probabilmente non mi appartiene più. Se non c'è un tentativo di cambiarlo, se non c'è qualcosa che ti fa capire che vale la pena viverlo, tanto vale in questo caso veramente mettersi un po' da parte in assoluto. perché non è ovviamente solo il calcio. Il calcio è un simbolo di un mondo che va in un certo modo e che non mi piace più. E meno male che ci sei tu. Grazie. Meno male che ci sei tu. A proposito, dopo cerco di abbassarmi un po' perché sembra altissimo le tue confrute. Dopo questo sfogo c'ho anche un po' paura, mi sono messo un basso io. Grande Marco. Grande Marco Capretti che ci è venuto a trovare questa sera, che ridà quel tono di allegria che sicuramente io non ho. E quando faccio queste cose e poi non ne voglio parlare più, non si pensi che uno sia coraggioso. Perché io sono convinto che quando parlo di nefandezze parlo di poche persone. Poi altri vanno dietro, no? Che vale sia per la Lazio sia per la Roma. Io ho avuto problemi quando parlo di queste cose da tutte le parti. Però io invece ho paura. Non è che non ho paura. Cioè io avverto delle sensazioni negative. E vorrei tanto che si risvegliassero tutti gli altri. Tutti gli altri. Questa è la cosa più importante. Il calcio non può finire così. Non deve finire così. Non deve finire con queste cattiverie continue su cui poi i social contribuiscono tantissimo. Va bene, finito. Adesso grazie a te che ci sei. E quindi mi darai certamente una mano a farmi riprendere. Perché in questi casi veramente c'è voglia di andarsene. C'è voglia di chiudere le porte. Perché è una cosa veramente molto triste. Che mi entra dentro insieme a tante cose. Per cui non è bello. Non è bello vivere e parlare di sport e invece un giorno parlare di morte. Un giorno parlare di... È veramente una cosa brutta. Ma noi adesso cerchiamo di distrarci perché è il nostro compito. Altrimenti cambiate tutti i canali, mi rendo conto. E quindi io vado a presentare i nostri amici. Oltre a averlo già fatto con te. Allora, buonasera Giuliano Gianichedda. Ciao Michele, buonasera a te. Buonasera al nostro avvocato che interpellerò. Ciao Michele, buonasera a te. Come sta? Renato Archidiacono, come sapete. Buonasera al nostro dottore. Buonasera a te, buonasera a tutti. Pino Capua. Comprimerti per tuo figlio. Anche lo sento in radio. Grazie. Fantastico, fantastico. Fa piacere. Buonasera, come sta lei? Buonasera. Lei sta tutto... Benissimo. Sei sicuro? Mi sono... Hai fatto un'ottima introduzione. Che mi ha fatto un po' cambiare la grinta che avevo su alcune cose. Tutto un baco, Filippo. Tutto bene? Un po' turbato. Sì, no, io dico quello che sento. Grazie Filippo, grazie Filippo. Andrea, ciao Andrea. Ciao Michele, ciao Marco, buonasera a tutti. Il nostro Marcello. Ciao Marcello. Buonasera. Siamo andati con nome e cognome, poi sono finito con tutti i nomi affettuosi che ho ovviamente nei vostri confronti. Poi saluto ovviamente il nostro amico. Buonasera, dottore. Lei come sta? Come sta? Tutto bene? Bene. Notizio di Pecchia? Non è bene. Ancora niente. Ci stavo pensando che oggi è stata una strana. Lui significa, ovviamente non significa solo lui, significa social food, social food.tv.com, significa la nostra grande redazione e dall'altra parte invece dobbiamo anche ricordare che si può comunicare con noi in tanti modi, no? Voi lo sapete con qualsiasi tipo di messaggio e quindi vado da una dolce fanciulla. Come stai? Buonasera, molto molto bene. Come sempre vi ricordo che potrete commentare la puntata insieme a Michele e i suoi ospiti attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook di Teleroma 56 e i messaggi che lascerete verranno poi letti nel corso della serata da me. Vi aspetto. Molto bene. Allora, noi come al solito, come consuetudine iniziale, dobbiamo andare ai vostri titoli, no? Come abbiamo sempre fatto, se siamo pronti. Ti tengo per l'ultimo, ti ho detto, così ti prepari? Già, miseria, sto titolo mi porta, mi preghi col titolo. Infatti, quando l'hai detto, ho detto, mannaggia il titolo. Io pensavo che spiegavi, invece ti ero che pure stasera, però adesso... Cioè, sei titoli prima di te per poterlo... Sì, sì, sì. L'altra volta che ho fatto un titolo era un film, mi ha spiegato come funzionava. Però, giuro che quando hanno finito l'oro, li copio e avrò il titolo. Allora, 349-9802-1056 per i vostri WhatsApp e per le vostre anche interventi, ovviamente, scritti. Allora, partiamo da te, partiamo da Gianni Chedda, che risaluto ancora. Giuliano, a te. Scatto decisivo. Scatto decisivo. Benissimo. Andiamo da Renato. Dalla parte di Pallotta. Dalla parte di Pallotta. Sì. Andiamo, invece, da Pino. Che gusto. Che gusto. Vabbè, andiamo, invece, da Filippo. Conferma, per quest'altro anno, conferma di Di Francesco, ma. Andrea. Tre punti fondamentali, ripensando all'andata, giustizia è fatta. E che se ne è un poema, i titoli devono essere un po' più corti, questo lo sai. Vabbè, comunque, Marcello. Dunque, io il titolo non lo faccio, perché dovrei fare una riflessione su quanto ha detto Pallotta, che secondo me è molto importante per rapporto a quanto hai appena detto. Ma la regola è del titolo, poi c'hai tempo per parlare di Pallotta. Beh, ma che sei anarchico. Io sì, sono anarchico. Se non se lo fai. E me lo posso consentire. Con te me lo posso anche consentire. Quindi, il titolo è Rompete le righe, i giochi sono fatti. Rompete le righe, i giochi sono fatti. Benissimo. Dopo tutti i siti adesso tocca a te il titolo. Io ce l'ho e non ho capito i titoli loro. Che gusto, sembrava questo ristorante, Rompete i righe, il militare. Insomma, scatto decisivo, il Savo Olimpiadi. Grazie a tutti. Non lo sta per andare. Allora, detto questo, invece, adesso andiamo un attimo alla presentazione di uno dei nostri sponsor di sempre, che è l'amico Celon. e quindi andiamo un secondo a dare la linea alla regia. Ho dimenticato la mia borsa. Vai, vai. Lentamente. Guarda. La mia borsa era ancora lì. E la tua borsa bacia bene. Il nuovo Opel Crossland X, con la telecamera posteriore a 180 gradi che può vedere persino dietro gli angoli. in prima assoluta. It's a good life. Allora, un saluto alla Opel, il nostro sponsor da sempre. Allora, noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo in diretta con voi. Pochi secondi. Allora, fra poco entreremo nel vivo anche delle interviste che sono relative alla partita che è terminata poco fa, quindi quella della Lazio. Per cui ci spostiamo intanto in casa Roma. Chiedo solo un rapidissimo giudizio, poi ci torniamo alla Lazio, anche a te. Allora, secondo te, Giuliano, che partita è stata? Ma la Lazio, secondo me, la Lazio stanca. Li ho visti veramente stanchi. Ci sono state due scene, una di Lulic al 42, sono il primo tempo, che è stato circa 30 secondi, un minuto, sulle ginocchia a respirare, perché era stanco, giocatori che si fanno male significa che i muscoli cominciano ad essere pieni di fatica e purtroppo si è fatto male immobili, che per la Lazio, insieme ad altri due o tre giocatori, è fondamentale. Per quello ho detto che nel titolo scatto finale, perché questi tre punti sono molto preziosi. Però, sinceramente, dall'altra parte ho visto un Torino che non aveva, secondo me, ormai ha staccato la spina, perché un Torino così scarico, soprattutto in casa, non l'ho mai visto. È stata brava la Lazio ad approfittarne e ha portato a casa tre punti, ripeto, fondamentali, perché nelle prossime due che la Lazio giocherà, con una vittoria, si garantirebbe il fatto che l'ultimo sconto diretto con l'Inter basterebbe un pareggio. Qualcosa da aggiungere, Pino e Andrea, perché poi andrei subito invece alla parte Roma? No, la sofferenza muscolare purtroppo che non mi aspettavo, perché questo è il terzo, perché c'è stato Parolo domenica scorsa, quindi Parolo, Immobile e Radu, e quindi io l'avevo detto domenica scorsa, per Parolo è finito il campionato, come è finito per Immobile, come temo sarà finito anche per Radu, però d'altra parte hanno tirato sempre la carretta loro e ci sta pure di avere a un certo punto un rigetto da questo punto di vista, per cui bisogna sperare che quelli che sono stati risparmiati fino adesso, quindi Nani e Felipe Anderson, oltre Caicedo, possano sostituire brillantemente Ciro Immobile. E a quello volevo andare, comunque Lazio molto sciupona, perché ha avuto tante occasioni per chiudere la partita poi definitivamente e non le ha sfruttate, probabilmente con Immobile in campo la partita la chiudevi prima. Beh comunque insomma, ti lamenti? Beh, no, non mi lamento, però vorrei evitare di arrivare tutte le volte... Quindi voi avrete colto la positività di questa giornata che ha sancito che la Roma e la Lazio faranno il prossimo anno la Champions League, quindi è un riscatto di Roma calcistica. Sì, qui fanno un sacco di gesti, fanno delle cose strane. No, ma infatti io non gli rivolgerò neanche più la parola, perché credo che poi bisognerà riequilibrare, bisognerà a un certo punto stabilire certe cose. Allora, io penso che voi dovreste essere ben felici, questa è stata una vittoria importantissima e la Lazio merita la quarta piazza che probabilmente raggiungerà, perché l'Atalanta... Perché non la terza? Eh? Perché non la terza? Perché te lo stava dicendo. Perché la terza non la raggiungi perché hai perso un derby e l'altro l'hai pareggiato. Per questo motivo molto semplice. Non puoi dare per scontato. Vedi, il vostro limite, sai qual è? Quello di vivere sempre nell'ombra. No, è esattamente il contrario. Guarda, è una cosa di una malinconia, perché è del perdente. Cioè, il perdente che cosa fa? Quando non può battere l'avversario... È bellissimo che Marcello Mici dice, perdente all'aziale nei confronti del romanista. Ma siete perdenti voi, Marcello. Ma che dici? Sto parlando con lui. Siete perdenti voi dal primo giorno. Io sono abituato... Facciamo i conti. Sono abituato a parlare con perso... Ma niente, permettimi Michele che è uscito in questa settimana. Però stava parlando con lui. L'UEFA blocca tutti i trofei europei della Roma. È stato bellissimo. Allora... Ti prego Marcello, perdente, proprio tu non lo vuoi dire. I tempi del dialogo sono tesi, antitesi e sintesi. Ma tu questo lo ignori. E quindi io me ne rendo conto. Lui fa il medico. Me ne rendo conto. Però nella sintesi vai alla conclusione senza essere interrutto. Io ho fatto una similitudine. Non ho detto che la Lazio è una società perdente. Io ho detto che dei perdenti sperare che non potendo battere un avversario con mezzi propri lo si faccia attraverso altri e ci si accosti ad altri per vivere una soddisfazione. con un piccolo particolare che con mezzi propri di quell'avversario l'abbiamo abbattuto sempre. Nelle partite detenute. Ma quando? Quando? Per favore, signore della Corte, spiegagli quando la Lazio ha abbattuto la Roma quando serviva. Quando serviva. Le altre volte non serviva. L'ultima volta nella Coppa Italia dell'anno scorso. Ricordi la Coppa Italia dell'anno scorso? La ricordi? La Coppa Italia. Ancora con la Coppa Italia. Ancora con la Coppa Italia. Se è scontato. Se è scontato. Se permetti una considerazione. Se mi dici quando. Mi chiede quando. Ma quando. Ma quando. Ma quando. Ma quando. Signore della Corte, per favore. Ma quando. Quello che devo dire a fuori numeri. Mi appello. Sai quanti termini in campionato ha vinto la Lazio? Ma che dici. Ma che dici. Ma che vuol dire. Sai quanti in appersi? Ma che vuol dire. E allora di che parliamo? Ma che vuol dire non conta. Parli dei fatti. Nei momenti in cui è contato. Non è che i fatti contano quelli che dici tu. Nei momenti in cui è contato. Ha vinto la Lazio. Ha vinto la Lazio. Quella vale 100 euro. Allora va bene. D'accordo. Nella bacheca. Nella bacheca. Ha vinto la Lazio. Nella vostra prestigiosissima palestra. Si scende a discutere. Oserei dire. La Lazio è inferiore alla Roma. Ah bravo. La Lazio è inferiore alla Roma. Allora fermi. La Roma è inferiore alla Roma. Fermi. 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 Ti fai parlare con Gianni. Qui ci sono. Un attimo. Qui ci sono. Un minuto. Ci sono. Giornalisti. Ex giocatori. Eccetera. Poi la cosa divertente. Quelli che si accaniscono. Sono un grande penalista. Quindi un professionista. Eccetera. E un grande dottore. Cioè nel senso. Un grande penalista. Un grande urologo. Nel senso che ci stavo. Però no. Il professore. Scusa. Ho dovuto fare il gioco delle parole con lei. Scusate. Non è arrivato. No. Aspetta. Scusate. No. Solo un attimo. Perché queste sono quelle che arrivano 30 secondi dopo. Questa è proprio bella. Dove è sfuggita. Stiamo in streaming. È proprio sfuggita. Allora gliela sfuggita. Fidati. No. Io vorrei soltanto dire a te. Mi rivolgo a te Michele. Che in una giornata di Gaudio. Esso per la Roma e anche per la Lazio. Il pensiero di retroguardia. Che immalinconisce. Anche io ho avuto un pensiero durissimo all'inizio. No. Tu hai avuto un pensiero su fatti importanti. Qui stiamo facendo il discorso del contadino nell'aia. Mi dispiace. Ma come sempre ti devo interrompere. Mentre dall'acqua le ocche. Nasce tutto dal mio amico Andrea. Allora si riduce tutto sempre. Nasce tutto dal mio amico Andrea che dice perché non terzi. E tu ti arrampichi sugli specchi dicendo qualcosa che non esiste. Non mi sono affatto arrabbiato. E quindi parti tu a far partire tutto il contadino. Io ho detto che al limite arrivati a pari punti. Cosa in effetti. Probabilissima. Arrivi quarto. Ma a me va benissimo arrivare quarti. Ma io difendo il pensiero di Andrea. Il tuo è un pensiero. Dove tu ti arrampichi sugli specchi. Il tuo è un pensiero. E l'avvocato mi dice una delle più grandi. Cosa di. Sì. Quale. Perché non c'è pari. Ma di che pari. Pari a professore. Se lo quelleni non spendi neanche i soldi. Non c'è partita. Guarda è incredibile. C'è un bambino. Cosa conta alla fine dell'anno. I risultati. I risultati. Non sono a favore della Lazio. Per caso. Quali sono questi risultati. Ma come quali. Ma il campionato non conta. Ma sono 50. E gli ultimi 10 anni. Scusate. Ma sono 50 anni. Vogliamo conteggiare i punti che i. Scusate. Ma i punti possono fare i 100 passi. Quanti anni sono che la Lazio non va in centro. E quanti anni sono che non ha vinto il trofeo. Ah la Coppa Italia. Dimentica. Che abbiamo vinto più di voi. Che abbiamo vinto più volte di voi. Che abbiamo vinto più volte di voi. Nella storia. E allora di che parliamo. Allora stop. Se non si parla la Coppa Italia vale. Se abbiamo sempre ragione noi. Scusate. Parlo un attimo con Mario. Senti. La cosa era questa. Giuliano. Io faccio. Scusate. Scusate. Per fortuna. Poi li blocchiamo così. Io faccio un editoriale di sfogo contro tutto un certo mondo. Questi mi partono l'uno contro l'altro. Averenati. Guarda. Non fare confusione con questi. Fate finire. Stavo dicendo che ovviamente. Non mi fai finire. Bene. Ovviamente con tutte le differenze. Perché volevo dire che questo è il modo di arrabbiarsi anche. Vedi che vedi come eravate andati già oltre. Qui infatti sto zitto. Sto buono. Tranquillo. Devi essere analitico. Un laser. Devi essere un laser. Figurati. Figurati. È quell'altro tipo di combattimento che c'è. Quello è serio. Che c'è. Ah tu sei un assassino. Tu sei un nazista. Tu sei qua. Tu sei lì. Solo perché ti fai una squadra. Tu sei seguito a quella latrina che sono i social. No. Perché i social non sono solo la latrina. Sono una latrina. Te lo dico io. Perché c'è di tutto. Però voglio dire che se i social. Purtroppo sono d'accordo con Marcello. Però vi aggiungo. Questa volta sono d'accordo. Vicino al calcio. Tanti anni fa. Sono passatista. Sì sono passatista. Ok. Non ci sarebbero state le cose che leggiamo adesso. Questo bisogna. Bisogna dirlo. Perché si va di fronte a esagerazioni di tipo. Soprattutto in questa. Come dicevo all'inizio. Classifica. Sei più cattivo te. Non so più cattivo te. Fai più schifo tu. Faccio più schifo io. Sui social non c'è alcun controllo. Qualsiasi persona può dire qualsiasi cosa. Tutti possono scrivere tu. E passa come un'opinione. Passa come un'opinione. Anche voi non avete controllo. Esatto. Altro errore è quello di confondere il titolo di calcio con tutte le sue asperità. Le vehemence dialettiche con il delinquere di professione. Allora il delinquere di professione si insinua nel calcio. Si insinua nei black block. Si insinua nelle manifestazioni di piazza. Ci sono delle braccia armate che vengono usate. Come tu ben sai perché tu lo sai quanto è meglio di me. Che poi si insinuano nel calcio. E vanno a fare esattamente quello che è successo a Liverpool. Quindi questo si affranca dalle tifoserie che vengono infangate. La tifoseria della Lazio è fatta di gente meravigliosa. Ma veramente di gente meravigliosa. Poi arrivano quelli che mettono due figurine su una curva e li sputtanano. La tifoseria della Roma. Trettanto. Poi arrivano due. Ma voi lo siete chiesto come sono arrivati là questi? Vi siete informati? Avete indagato? Questi sono arrivati per loro conto. Ma non voglio andare specificatamente su quelli. Lo dico legalmente. Perché ancora ci sono delle cose molto in sospesa. Se non siete d'accordo. Per cui non voglio fare processi. Pallotta ha detto una cosa solenne. Ha detto non mi interessa niente di Roma-Liverpool. Mi interessa la vita di Cox. No, no. Infatti onore. Questo va estrapolato. E di questo ne va fatto un manifesto. No, no. Questo è fondamentale. E' il motivo del mio titolo. Però non mi sento di individuare. Perché non tocca a noi. Ah, certo. Chi sono i colpevoli, chi non sono. Fino a chi non ci sono indagini. Fino a chi c'è gente che comunque è in carcere. Perché qui poi va, per mia cultura, il rispetto che va oltre. Ora, un secondo solo. Un secondo solo. Vuoi restare ancora qui con noi? Eh, guarda. Sto andando via con Gianni Kedda. Che dopo questa iniziale litigata mi ha guardato e ha detto E io che pensavo che il problema erano i falli di Samuel. Ma si è reso conto che c'è molto di peggio. Però una cosa la voglio dire su pallotta. Ogni tanto, io da romanista devo dire che le uscite del presidente non sempre sono, diciamo, le stesse mie idee. Mettiamola così. Però quando si parla di violenza, lui è uno dei proprietari dei Boston Celtic. Io seguo molto, da ex giocatore in basket, seguo molto l'NBA. Lì c'è una cultura talmente diversa che io credo che un presidente di due squadre e due realtà così agli antipoli... Come se fosse scalamentato in un altro modo. Allora, provate a vedere, ci sono le finali adesso NBA, le danno su Sky. Allora, voi vedete, che ne so, si gioca a Golden State, hanno tutti la maglietta gialla. Gioca contro i Celtic. C'è uno con una maglietta verde in mezzo a tutti i tifosi. E quando segnano quelli dei Celtic, questo si alza in piedi... Mi permetti di fare un inciso su quello che stai dicendo? Può incidere qualsiasi cosa. Perché è un altro modo di dire... È il Gianni Morandi del Cesare. È un altro modo di dire, perché l'America è il paese più violento che esiste al mondo. Sì, ma non in questo contesto, però. No, ma ti sarai chiesto perché ti sarai dato ancora una risposta. L'americano va allo sport per divertirsi. Non fa guerre di religione e non fa della fazione un motivo di vita. L'americano va a vedere uno spettacolo di sport per divertirsi. Non ci sono i tifosi, Marcello. Non ci sono i tifosi. È un concetto completamente diverso. Non è che poi adesso annulliamo i tifosi. Che vuol dire? È completamente diverso. L'America è il paese più violento del mondo. Sì, ma non sto parlando degli americani, sto parlando di due sport. No, perché Boston e Pallotta sono americani. Quindi la violenza sociale la respirano come in nessun altro posto del mondo. Ma in altri contesti. Ma no, sociale. No, in altri contesti lui parla non sportivo. Ah no, lo sport per loro. È divertimento, è spettacolo. Ok, fermi un attimo. Non avevo sentito Filippo. No, no, ma io che sono moderato, volevo un tanto spiegare... Sì, appunto, sono stato sopraffatto. No, volevo spiegare il mio titolo iniziale. Se posso spiegarlo, mi interessa a qualcuno. Perché io sono per... Comunque vada il campionato della Roma, comunque finisca, sono per dare un'altra chance a Di Francesco. Oggi, ora ho accettato di Francesco. No, nonostante gli riconosca e gli attribuisca anche degli errori, anche molto importanti. Tra i quali l'uscita dalla Coppa Italia per una gestione della squadra negativa. L'approccio con il Liverpool, colpa sua, non certo colpa mia. Perché vai a riproporre una formazione e uno schema che hai usato... L'ha detto lui, sono un pazzo, ho fatto la difesa a tre. La vai a riproporre al Liverpool, vuol dire che non hai mai visto giocare il Liverpool. Cioè, quindi, nonostante gli errori che abbia fatto... Posso solo dire, soltanto per mia difesa di una storia di Col di Notte di un certo tipo che tu conosci bene, tatticamente in relazione a quello che sta dicendo lui, non sono d'accordo neanche in una virgola. Però è il tuo diritto. Questo mi garantisce. Ma adesso che gli ha dato un'altra chance, siccome Pallotta lo sta ascoltando... Certo, mi ascolta, io amicizia a Boston. Di Francesco... No, ma infatti io gli darei un'altra chance, gliela darò sicuramente. Menomale. E fuori in scelta. Gli adoro io sicuramente. Ma nonostante, secondo me, abbia fatto degli errori, secondo me, importanti. Perché la partita col Torino, la partita con Liverpool, l'attribuisco a sconfitte... Aspetta, aspetta, aspetta. ...l'attribuisco a lui... Buoni, 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 dobbiamo andare in conferenza statica. La vittoria in chiave di Champions, ovviamente. Però non credo che lei sia del tutto soddisfatto, né del primo né del secondo tempo. Perché nel primo tempo qualche passaggio di troppo forse sbagliato. E nel secondo tempo non aver chiuso la partita con grandi occasioni. È vero le parate di Sirugu, è vero che nel primo tempo c'è stato l'infortunio immobile. E poi anche alla fine del primo tempo quello di Radu, che sicuramente avrà condizionato in parte l'esprimersi della sua squadra. Però forse qualcosa in più ci si poteva aspettare dalla Lazio. Io devo dire la verità. Mi sono divertito molto vedere giocare la Lazio, perché è stato un piacere vederla giocare. Penso che si sia divertita pure lei. Il problema, giustamente come dice lei, che avremmo dovuto fare qualche gol in più, perché giocando così non puoi arrivare all'ottantacinquesimo, dove non ci hanno mai tirato in porta, se non un tiro di De Silvestri da lontano. Magari prendi un gol e non vinci una partita dove abbiamo giocato benissimo, abbiamo creato tantissimo. E la nostra imprecisione, il rigore sbagliato, la bravura di Sirugu, che è stato molto molto bravo, non ci ha permesso di vincere con un punteggio più largo. Però insomma, vedere giocare i ragazzi in questo modo mi fa molto molto piacere da allenatore, è normale che sia così. Ciao Simone. Ciao. Tu che hai giocato il calcio a certi livelli, volevo sapere se era un caso il fatto che comunque questi due, perché tanto non te l'abbiamo chiesto, l'abbiamo sentito nella tua intervista di Sky, questi due problemi muscolari, è un caso che arrivino nel momento in cui la Lazio ha avuto una settimana per allenarsi dopo che ha giocato ogni tre giorni. E poi voglio chiederti se Felipe Anderson può fare l'immobile. Ma Felipe Anderson può fare tutto. Ho fatto i complimenti al gruppo. Adesso, insomma, stasera fare un nome solo mi dispiacerebbe. Ho solo detto che con la Fiorentina e con la Sampdoria, Felipe Anderson e Casseres erano stati due o tre migliori in campo. Stasera sono allenatore, devo fare delle scelte, erano in panchina ed erano i primi a incitare i ragazzi. Stasera ho optato per Murgia e per Ramos, che sono stati bravissimi a fare un'ottima prestazione. Spiace per i due infortuni muscolari. Sappiamo che siamo, penso, alla 53esima partita stagionale, o 52esima, ne mancano tre. Arriveremo a 55. Speriamo di poter recuperare prima della fine immobile Radu, perché per noi sono due giocatori molto, molto importanti. Buonasera, mister. Io invece volevo chiederle il ruolo di Milinkovic, perché stasera è stato un giocatore, al di là del gol, fondamentale lì davanti, con l'uscita di immobile. L'aveva fatto già anche un po' con la Sampdoria, che si sta spostando sempre un po' in avanti. Paragone assurdo, quasi alla Ibrahimovic. E' stato bravissimo, insomma, stasera ha fatto una grandissima gara, ha fatto gol, ne avrebbe potuto fare un altro, ha propiziato il rigore, insomma, mi ricordo la giocata con l'Eiva, dove poteva fare un altro gol. E' stato bravissimo a fare solo un nome, stasera sarebbe... Non mi sembrerebbe giusto, perché onora questi ragazzi, che stanno facendo qualcosa di straordinario, di immaginabile alla vigilia, però adesso dobbiamo avere la forza, perché ne mancano ancora tre. Abbiamo un discreto vantaggio, ma ci sono ancora nove punti disponibili e dovremo ancora lottare tanto. A centravanti ce n'abbiamo qualche volta, è un'opzione soprattutto, magari in determinate partite, quando magari trovi un avversario che non riesce a giocare, però quando troviamo gli avversari che non riesce a giocare, solitamente riusciamo a giocare ugualmente, magari qualche soluzione quando dobbiamo alzare la palla potrebbe anche farlo, perché è un giocatore di quantità, ma ha tantissima qualità. Due domande, buonasera mister. Buonasera. Quando è uscito immobile, ha pensato solo per un attimo di far entrare Anderson o è andato subito convinto che era Caicedo la scelta giusta? E la seconda domanda, se considera questa affermazione quasi un match ball per la Champions League? No, un match ball assolutamente no, però è una prestazione, è una vittoria molto, molto, molto importante. Per quanto riguarda Filippe Anderson, in quel momento ho pensato subito a Caicedo, perché Caicedo è un momento che sta bene per Filippe Anderson. Stasera inizialmente avevo studiato di lasciarlo fuori, sicuramente l'avrà inserito, poi due cambi forzati la partita, mi ha optato a fare altre scelte, però sono molto contento di Caicedo, è un ragazzo, un professionista esemplare, che lavora tanto, mi dispiace che stasera la sua prestazione non sia stata premiata con il gol. Bene, grazie. Grazie. Si vede quando devono partire subito, che c'è l'aereo pronto, arrivano prima e si va via subito. Un attimo soltanto, non l'avevo ancora fatto, c'è il ricordo del mio laboratorio a cui tengo tantissimo, voi sapete, è il trentennale, per chiunque sia interessato ad avere un appuntamento con me, affinché io possa spiegarlo, andate al sito, li leggerete tante cose e poi mandate il vostro telefono, il vostro nome a micheleplastinochiocciolavergilio.it Vi ricontatto direttamente io per un appuntamento. Bene, siamo tutti pronti, vero? Siamo tutti pronti, fra poco poi vediamo se ci sono anche delle notizie con Stefano Renzi, Social Football TV, che è la nostra redazione, che è figlia tra l'altro del piccolo gruppo. Noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo pronti a commentare già in zaghi, poi andremo anche a sentire le parole di Di Francesco. Prima di rientrare nel dibattito, se è possibile vorrei andare un attimo da Chiara per ricordare ancora quello che è il nostro indirizzo telematico, perché credo che soprattutto la vostra discussione abbia animato un po' a livello virtuale. Chiara, a te? Sì, vi ricordo ancora che potrete commentare la puntata con noi attraverso la nostra pagina Facebook di Teleroma 56 e lasciate i vostri commenti sotto al post dedicato alla trasmissione. Bene, Chiara, grazie. Chiara Vergili, ripeto, oggi vedete la mia Noemi. Buon lavoro, meglio Noemi. Capisco che detta così. Saluto Noemi, ovviamente, che stasera appunto ogni tanto ha questi impegni cinematografici che ci fa anche indubbiamente piacere. Stefano, quindi vado alla redazione social.tv.co perché quando poi si apre il dibattito diventa difficile, hai qualche informazione? Di Francesco questa sera era ospite di Fabio Fazio a che tempo che fa, ha ribadito di credere nella rimonta con il Liverpool, inoltre si è schierato con le dichiarazioni di pallotta rispetto ai fatti di Liverpool dicendo che una minoranza non può rovinare l'immagine di una tifoseria intera e infine ha commentato la lotta a Scudetto dicendo penso che dopo oggi i bianconeri siano favoriti, anche se devono ancora venire da noi, ma vogliamo essere determinanti per noi stessi e non per gli altri. Infine c'è stato questo siparietto finale nel quale Di Francesco ha regalato a Fazio la maglia di Fazio, il romanista, il suo omonimo. Così come lì c'era anche Renzi che stasera era l'omonimo turco. Oggi è la giornata degli omoni. Confusione vera, sì. Quindi la Roma è anche risparmiato, non ha dovuto far fare la maglietta con scritto Fazio. Esatto. Va bene, va bene. Ma lui è pure del piccolo gruppo Fazio? No, lui è piccolo proprio, nel senso che fisicamente non è un cristone. Pensavo che avessi fatto il piccolo gruppo. Non tutti possono partire da lì. Dai, dai, dai. Va bene. Questa è una battuta. Torniamo a noi. No, è una dolcezza nei suoi confronti. Per i whatsapp 349 98 012 56, in genere gli dice meglio Noemi, è di quanto lo dico io, per cui li vedrete ovviamente poi passare. Allora adesso abbiamo sentito, in Zaghi, fra poco andremo anche in questo ping pong con la Roma, ma approfitto, mi ritaglio un momento. Mi vuoi chiedere di spalletti? Aspetta, no. No, va bene. No, no, spalletti. No, pensavo che volevi chiedere di spalletti. No, non lo chiedo. Chiedo a lui invece. De spalletti, no? No. Chiedo a Marco ogni tanto, ormai lui ci viene a trovare, a me fa piacere sapere che cosa combina lui. No, che tempo fa? Che fai tu? Beh, a parte seguire il calcio, ovviamente sono in procinto di debuttare al Teatro Tirso di Molina da giovedì prossimo, uno spettacolo nuovo dal titolo Quando tutti dormono e sarà uno spettacolo dedicato al mondo dei sogni, visto che siamo un po' tutti disognatori, soprattutto gli sportivi sognano ovviamente la propria squadra vincere, ma ognuno di noi ha i propri sogni, no? Adesso a me, per esempio, è nata una bimba e durante lo spettacolo, quando parlo dei miei sogni personali, parlo della bimba. Faccio un esempio. Quindi è romantico, come fai? È anche romantico, comico. Beh, adesso lo capirai subito, ti faccio capire, io sogno di essere sempre con lei in tutti gli step della sua vita, per esempio, quando l'accompagnerò per la prima volta all'asilo, e ci sarà questo distacco, c'è un anno, quindi è proprio piccola, e io la sogno questo momento, sai quando lasci la bimba da sola ma non vai via? Ti tieni dietro la colonna e sentono urla, pianti, ora dopo venti minuti viene la maestra e ti fa, se lei smette di piangere mi distrae i bambini, cioè è un po' poi uno spiegare la parte comica dei sogni, però ci sarà anche una piccola riflessione durante e nel finale. Quindi è un inedito, è un romanticismo surreale? Detto così non ti ho capito, però credo di sì, perché mi sono piaciute l'assonanza delle parole, parlerò anche del latino, perché per esempio l'etimologia delle parole sogno e sonno è la stessa etimologia. Questo è un archiettivo prototipo però. Sì, è la stessa sua, pensa. No, la differenza è che lui l'ha fatta apposta, invece io l'ho fatta sedia. Questo è l'errore maggiore mio, era quello. Pensa, però io in buona fine non ho capito a nessuno di lui, a prescindere. Quindi vi aspetto al Teatro Terzo di Molina. Fino quando sarà il? Tutta la settimana, fino a domenica, sono cinque repliche. Ne abbiamo tolta una perché dovevo dibuttare il 2 di maggio, ma con Roma e Liverpool abbiamo deciso di fare una doppia poi sabato e evitare, diciamo, anche perché non ci sarei andato manco io, con tutto rispetto. Guarda, una cosa che mi fa piacere, perché tu dici, è un piacere averti qui, è un piacere per me essere tuo ospite, ma a tutti coloro i quali vanno al teatro o chiamano al teatro dicendo, gol di notte, da l'intero, il biglietto che intero costa 18 euro, facciamo 12. Ok, questa cosa così, tipo sconto. Una carezza per tutti gli ascoltatori tuoi. Che l'ho sempre sentito nelle altre trasmissioni, questo è un inedito. Guarda, giuro, e pensate che tutti i soldi, ah, questo lo devo dire, tutti i soldi dell'incasso andranno in beneficenza a me. A te. Quindi questo, per spiegare, venite perché ci ho bisogno. Sì, bravo. Ovviamente quella maglietta a tua figlia non la farai vedere mai, a Brugge. Non si può essere appena venire al mondo. No, vabbè, ancora non capisce. Ma poi per quello che ha dei brucià? Perché è Jogger, vabbè, Jogger, dai. Non è questa cosa così. Va bene, questo è Johnny Depp. Allora, detto questo poi ci ritorneremo anche fra un po'. Io vorrei, se i Laziani me lo permettono, in questo momento andare alla Roma, più che per un fatto tecnico, perché sì, poi vedremo alcune immagini, non so se fra poco possiamo già mandarle in onda, credo. Però prima di vedere il servizio di Gianluca Guarnieri, volevo rientrare nello specifico di Liverpool per capire alcuni meccanismi. Adesso, al di là di quello che io ho detto, al di là di quello che non può che essere un distacco da certi fatti, anche l'amarezza di vedere invece degli appoggi addirittura a tutto questo, mi interessa un fatto di carattere legale. che sta succedendo adesso, perché adesso al di là di che tu non sei il loro avvocato, però è chiaro che sei un appassionato, quindi segui, no? Com'è la situazione? Perché c'è il cambiamento della motivazione? Stanno facendo ulteriori indagini? Com'è la storia? Diciamo, ne parliamo con Massi della massima cautela, per quello che abbiamo letto sui giornali. Diciamo che i due ragazzi che attualmente sono stati arrestati, che sono sotto processo, e che io mi auguro possano chiarire anche la loro estraneità, onestamente, erano stati arrestati. Ma la dinamica però ancora non è chiara, cioè non si capisce, perché anche nei video, se voi avete avuto occasione di vedere, si vede purtroppo il tifoso già steso in terra, quindi non si capisce se, diciamo, le lesioni che ha riportato sono a causa di una caduta, sono a causa di una cinghiata, così come qualcuno ha detto, non si sa, questo obiettivamente non si sa. Quindi sono stati individuati questi due ragazzi, perlomeno quello che si è letto, e sono stati arrestati inizialmente con la grave accusa di tentato omicidio. Ora, è stato convalidato il loro arresto, per quello che si è potuto leggere sugli organi di informazione, ma è stata modificata l'accusa, cioè l'accusa è stata derubricata, non è più tentato omicidio, ma bensì lesioni gravi, il che ci lascia intendere che dagli elementi raccolti la condotta che è stata attribuita a uno dei due in particolare non sarebbe stata finalisticamente orientata a provocare la morte della persona che poi è rimasta ferita. E poi potrebbe morire, però. Questo è infatti subiudice. Era discriminante. Non chiedevi se è dolo eventuale in Inghilterra? Ma qui non è un problema di dolo eventuale. Da noi, teoricamente, ma lo diciamo facendo tutti gli scongiuti del caso, ci sarebbe un'ipotesi di omicidio per età intenzionale. In Inghilterra non c'è, ci sono due ipotesi di omicidio. C'è un'ipotesi di omicidio volontario e di omicidio colposo. Quindi bisognerà vedere quelli che sono gli elementi che sono stati raccolti e verso che tipo di soluzione giuridica e qualificazione giuridica porteranno il caso. Quindi il 24 maggio, mi pare, il processo di, diciamo, le tempistiche sono molto più rapide. Posso fare una notazione al di là di quelle che sono le lezioni tecniche? Mi sembra che un dato emerga in maniera inequivoca, cioè la disorganizzazione del sistema di sicurezza. Parlo anche per l'esperienza personale. Io andai a Manchester, in un'occasione poco felice per noi, il famoso 7 a 1, e ho potuto apprezzare la disorganizzazione della polizia inglese per quanto riguarda quello che accade fuori lo stadio. Cioè il modello inglese è molto efficiente all'interno della struttura, dove tu, anche se fumi una sigaretta, vieni cacciato allo stadio. Cioè succede nello stadio, non si può fumare. Fuori dallo stadio, perché qui sarebbe impensabile che dei tifosi, non so se ci sono andati apposta o ci sono capitati per caso, si possano trovare all'improvviso sotto la curva dei tifosi avversari. Cioè una cosa del tutto fuori dal mondo. Ma fuori dal mondo, scusa, però fuori dal mondo perché siamo in Italia, ma come lo dicevamo prima, in America e anche in Inghilterra c'è una cultura di forza sportiva. Io vado allo stadio per andare a una festa, non vado allo stadio sotto la curva loro, sotto la curva nostra. Siamo a Liverpool, ricordo che la partita precedente dei quarti di finale di questa stagione, non so se sapete che il pullman del Manchester City è stato assaltato da tifosi del Liverpool. Quindi io ci sono stato in Inghilterra, e in Inghilterra hai paura di andare allo stadio, perché fuori dallo stadio trovi persone ubriache che si possono lasciare a qualsiasi atto di violenza. Io parlo per esperienza personale, ma dentro allo stadio tutto funziona liscio, fuori dallo stadio è oggettivamente pericoloso. Quindi il fatto che si sia non potuto verificare questi incidenti, a prescindere dalla responsabilità poi di come sono andate le cose, francamente mi ha lasciato sconcertato. Cioè com'è possibile che in una partita di questa importanza, dopo quello che era successo con il Manchester City, ricorderete le proteste di Guardiola, il Puma l'ha assaltato. Questo riguarda la prevenzione. Questo riguarda la prevenzione, non riguarda l'aspetto etico, sul quale, come ho detto all'inizio, sono dalla parte di Pallotta, perché Pallotta ha centrato il punto. Cioè queste persone non debbono entrare negli impianti sportivi, non ci debbono proprio andare. Questo è il punto. Perché Pallotta, così come tutti gli altri presidenti, ha il dovere di difendere la società da quelle che sono le conseguenze che questi gesti possono portare alla società stessa. Che sono gesti, che sono conseguenze sul piano sportivo, sul piano disciplinare, sul piano patrimoniale. Grazie, grazie. E mi fermo qui. Era no, perché poi era un contributo che credo no, abbiamo bisogno noi, abbiamo bisogno anche la gente per capire, perché in questo caso, tra chi parla in radio, chi scrive, chi fa, chi dice, eccetera, nasce una serie di informazioni. È un argomento delicato questo. Poi la discriminante sarà anche la vita del tifoso. Sì, ma poi è delicato in ogni caso. C'è una vita in ballo, ci sono delle persone che comunque sono in carcere, quindi anche quello poi al di là di tutto va rispettato. o perlomeno... Sulle quali c'è anche una presunzione di non colpevolezza anche nel sistema inglese. Appunto, quindi di Aspen rimane il fatto che fa schifo, come ho detto. Sì, certo, questo è il fatto. È intollerabile. Ed è ignobile la classifica delle nefandezze. Continuo a ridire questa cosa che è molto triste per quello che mi riguarda. Posso sottolineare solo... Però poi usciamo... Però poi usciamo... La grande gara di solidarietà che è stata fatta, comunque la raccolta dei fondi per sostenere le spese mediche del tifoso del Liverpool che sta in ospedale. Durante la settimana sono stati raccolti più di 40.000 euro, specialmente nella zona di Roma, e questo comunque nell'ambito della tristezza, della drammaticità della situazione, vorrei sottolinearlo. Velocemente, Michele. Pallotta ha parlato e abbiamo tutti condiviso. Non c'è stato un presidente che abbia preso l'argomento sposandolo. Questa è anche un'altra cosa molto grave. Cioè lui già un paio di anni fa aveva parlato dei tifosi, se lo ricordate, fu un po' sui giornali, dai tifosi stessi, eccetera. Sai, lì era difficile entrare un po' nel medico. Mi è sembrato un po' lasciato solo in questa sua disamina della situazione. Sì, hai ragione, però poi era anche difficile un intervento esterno. Parlare in generale dei violenti non era difficile. C'è stata una bella intervista di Malagò, però. Sì, io parlavo dei presidenti e nessuno, tutti ce l'hanno nelle loro tifoserie, tutti i presidenti hanno. In realtà ha ragione lui, Malagò, che è il presidente dello sport di Agnano, ha preso, e poi anche con tutte le interferenze adesso nel calcio, ha preso una posizione molto chiara e che ha scongiurato subito tutti quelli che dicevano adesso lui è romanista, tutte queste cose che fanno parte di questa sottocultura. Come contengono, che hai detto prima. Sì, sì, questa sottocultura. Ma su queste questioni non ci vuole sia un romanista e l'anziale. Ma Malagò ha fatto un intervento sacrosanto. Ha fatto bravissimo. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo da voi. Allora, prima da Stefano Renzi, quando dico da Renzi, sembra che insomma... Vieni pure qui, vada per tutto. Allora Stefano, avevi qualche informazione? Come al solito, quando noi parliamo... In genere, per prima notizia arriva qualcosa sugli allenatori, stavolta come seconda? Sì, perché Diego Lopez, l'allenatore del Cagliari, è a rischio dopo la sconfitta per 4-1 con la Sampdoria. Addirittura al termine della partita c'è stato un faccia a faccia tra Lopez e il DS Carli, il vicepresidente del Cagliari Filucchi. In serata, diciamo, tra oggi e domani ci sarà un vertice per capire quale sarà il futuro dell'allenatore che avrà probabilmente un finale di stagione molto difficile perché avrà la Roma, la Fiorentina e l'Atalanta nelle ultime tre partite. Tra l'altro, sì, diventa abbastanza complicato quel cammino anche se lui aveva avuto già molta fiducia. Sembra che quest'anno che sia così l'unico che resiste sempre è Pecchia, o no? Pure oggi. Oggi ha parlato il Presidente. Sì, ho visto sentire. È bellissima questa cosa. Cioè, che ha detto? No, il Presidente ha detto che ormai è inutile cambiare. È inutile cambiare. È bellissima questa cosa che tutte e due le squadre di Verona stanno per retrocedere. Cioè, bellissima, no? È bruttissima, ovviamente. particolare. Però è singolare. La nostra spalla si sta... Io per quello, perché non ho nulla con il Verona. E speriamo che si salvi il Crotone entro domenica. Bravo. Esatto. Perché c'è Lazio e Crotone? Sì. Crotone e Lazio. È però questa. C'è Chievo Crotone. A chiudere il discorso di prima. Prima che stavi tutti i interessi personali. Aspetta, che era molto interessante. No, facevo tesoro delle parole dell'Avvocato che dentro lo stadio in Inghilterra è... Fuori è pericoloso. Quindi non basta rimanere sempre dentro. Dentro. Te fai che la cosa sta dentro direttamente. Tutta la vita è lì. Sì. Allora, Chiara, rivengo da te per il ricordo ancora di come condividere con noi. Poi dopo andremo alla lettura perché so che ne stanno già arrivando tanti di messaggi come leggerete anche quelli che stanno arrivando attraverso Whatsapp ed SMS. Prego, Chiara, a te. Sì, esatto, Michele. Sono già arrivati molti messaggi. Colgo l'occasione per ringraziare i nostri telespettatori che ci seguono e commentano con noi la puntata e allo stesso tempo mi scuso se non riesco a leggere tutti i messaggi ma come ho già detto prima sono tantissimi. Voi comunque continuate a scriverci sulla pagina ufficiale di Teleroma 56 e ci vediamo tra poco con la lettura dei messaggi. Bene, allora grazie. Vado un attimo in questo ping pong adesso entriamo anche in qualche meandro tecnico della giornata di queste giornate. Sì, no. È il mio forte diciamo. Loro due. Allora, Giuliano comunque sia che cosa hai notato nella Lazio di questa sera che comunque non è che sia così facilissimo vince a Torino. No, no, ma la Lazio l'ho detto prima è uno scatto finale perché questi tre punti erano fondamentali. È vero che d'altra parte come ho già detto il Torino... Scusa, non so se a quest'ora tra poco vedremo anche le immagini della Roma se già possiamo far vedere vi chiedo scusa anche le immagini mentre parliamo della vittoria della Lazio mi dicono di sì così sono di supporto a noi. Vittoria importante peccato per come ho detto per Immobile perché la Lazio è vero che adesso ha un margine importante perché quattro punti a tre giornali dalla fine sono tanti però è lo sconto diretto l'ultima partita e tra l'altro domenica c'è l'Atalanta che in questo momento è tornata ad essere l'Atalanta di prima perché sta giocando bene l'Atalanta è avanti al Milan per cui può rientrare nell'Europa League che per loro come è stato detto dal Presidente da Gasperini è il loro scudetto per cui attenzione massima all'Atalanta e poi deve andare a Crotone che abbiamo visto è un campo difficilissimo Crotone in casa col campo piccolo con il tifo che è molto caloroso anche un buon Zenga sì Zenga ha dato questa mentalità secondo me di osare un po' di più perché noi eravamo abituati a un Crotone che stava lì dietro sembrava sempre che andasse bene nel pareggio invece con Zenga è più propositivo mi sembra un buon lavoro e poi ho visto veramente ancora un'altra volta Milinkovic Savic che è tornato tornato a essere quello vero infatti la Lazio ben anche Stragoscia in alcune situazioni sì ma tutti quanti hanno fatto una buona partita al di là del fatto che è chiaro non può essere brillante come inizio però ho visto un Milinkovic come qualche tempo fa non marcato però è difficile perché gliela dai alti la dai bassa ma lui ha lo strapotere fisico è chiaro se il professore non sei molto obiettivo lui è più obiettivo secondo me ripeto no no l'ho detto prima che il Torino secondo me non ha fatto una buona partita però Milinkovic per come si è mosso per quello che ha fatto oggi ho visto veramente il Milinkovic di qualche tempo fa è un Milinkovic così di Immobile secondo me è fondamentale volete aggiungere qualcosa mentre stiamo continuando a vedere le immagini non le sto commentando perché avevamo il commento di Giuliano Generale no l'abbiamo detto prima il limite di questi due problemi muscolari è che secondo me hanno finito il campionato tutti e tre a partire da Valoro che sta succedendo parecchie infortuni adesso in questa parte ma i giocatori a 52 partite a 52 partite alla fine 13-14 giocatori sempre gli stessi tra l'altro e quindi alcuni senza ricambio ripeto c'è la possibilità di sfruttare Nani che potrebbe essere a questo punto utilizzato e di far giocare secondo me dal primo minuto anche Felipe Anderson perché è un peccato in questo momento di grande secondo me di grande forma fammi sottolineare non vederla in campo sottolineiamo le cose belle del calcio in questa immagine l'abbiamo vista la bellissima sportività che poi è stata premiata dal calcio anche di Leiva perché di fronte a quella bellissima parata di Siriu quindi è saltato l'ha saltato no 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 è andata a complimentarsi la grande parata di Siriu ha fatto una grande parata e è andata a complimentarsi perdonatemi ma almeno rimarchiamo quel poco magari no c'è ancora qualcosa di buono però confesso di essere passatista sul calcio cioè calcio era un'altra cosa scusate ma fatemelo dire era un'altra cosa a livello di sentimenti e di tutto per esempio sai che a me piace Caseto no ma è un buon giocatore adesso qui l'abbiamo visto mangiarsi un gol l'accordissimo con la scelta di Simone a seguire immobile con Caseto perché poi è un attaccante per attaccante poi tra l'altro visto che il Torino era tutto lì dietro è anche giusto metto una punta che a livello fisico comunque tiene impegnati i difensi poi stavamo 0-0 ancora ieri mi incontro Caseto non era una prima punta nell'Ecuador non faceva la prima punta vabbè perché giocavano con due punte è chiaro che però non era la prima punta quindi è anche sbagliato aspettarsi sull'Ecuador che lui faccia immobile perché ti vedo interessato all'Ecuador mi sembra ma io non sapevo neanche giocare a essere a pallone in Ecuador l'ho scoperto adesso quindi non è male sono stati semifinalisti della Coppa America quindi non male non male se la Lazio fosse stata in vantaggio secondo te avrebbe fatto quel cambio? ma dipende dalla partita col Torino il Torino tutto schiacciato dietro è chiaro che Felipe Anderson può fare più fatica perché non ha spazio allora per quella secondo me Simone ha scelto un attaccante che sta lì che combatte con i loro difensori perché Tranquulu Bordisso e More sono tre statici per cui serve un giocatore che gli impegni Felipe Anderson è uno che va più in giro è chiaro che se vai in giro poi ti manca non solo poi sai quello lì è stato preso per fare quello se non gioca quando si fa male quell'altro poi lo perdi con l'Atalanta secondo me che l'Atalanta è una squadra che comunque di pressa è tutto in avanti e lascia lo spazio dietro può darsi che Simone pensi più a Felipe Anderson perché ci sono c'è lo spazio dietro i difensori però bisogna sempre la partita come si mette però magari riposa qualcun altro che lo fa giocare a tutti e due potrebbe far sentire importanti in questo momento c'è bisogno di tutti che serve molto questo allora un attimo solo ne approfitto per fare l'altro ricordo altrimenti mi dimentico le iniziative personali fatemelo ricordare ancora quello che è il piccolo gruppo cioè il mio laboratorio di comunicazione che cosa bisogna fare per avere un appuntamento personale con me andate a dare un'occhiata al sito dove leggete già alcune informazioni poi mandate un'email con il vostro nome e il vostro telefono vi richiamo io per prendere questo appuntamento quindi micheleplastino chiocciolavergilio.it abbiamo adesso riformato anche l'altro gruppo insomma ci stiamo muovendo in maniera circolare per accontentare tanti anche se poi tanti non significa mai troppi perché si chiama piccolo gruppo proprio per questo allora torniamo a noi in questo nostro ping pong e andiamo alla Roma chiedo un secondo alla regia se possiamo andare al servizio così ricordiamo anche che poi la Roma ha giocato recentemente ha vinto ieri 4 a 1 con il Chievo con il servizio di Gianluca Guarnieri una Roma particolarmente ispirata travolge il Chievo all'Olimpico nella quarta ultima giornata di campionato Eusebio Di Francesco opta per un turnover minimo lasciando a riposo soltanto Florenzi e Manolas e mandando in campo tutti i big tranne gli infortunati Strotman e Perotti arbitra calvarese di Teramo davanti a quasi 39.000 spettatori in una giornata di caldo estivo i giallorossi trovano presto il gol all'ottavo Mengolan ruba palla a Radovanovic cross dalla sinistra del belga per Patrick Schick che è rapido nell'anticipare la difesa veneta e abbattere Sorrentino 1-0 e rete numero 2 in campionato per il giovane attaccante della Repubblica Ceca due minuti dopo è ancora la Roma stacco imperioso di testa di Fazio che colpisce il palo Sorrentino è poi rapido a spazzare via la palla dalla propria area di rigore al 27esimo ancora un palo sulla strada romanista lo coglie El Sharawi che calcia di destro a giro legno numero 22 stagionale colpito nell'occasione dal faraone tra i più in forma della squadra capitolina il 2-0 è comunque nell'aria e arriva al 40esimo assist consueto di Alexander Kolarov per Edin Dzeko che in ecrobazia di sinistro non dà scampo a Sorrentino ancora un gol per il capocannoniere della scorsa stagione ripresa e il Chievo di Maran ha la sua chance ghiotta per riaprire i giochi Inglese sfugge a Juan Jesus che lo cintura Calvarese concede il calcio di rigore ed espelle il difensore brasiliano un bel problema ma Alison Becker lo risolve a modo suo parando il tiro dagli 11 metri dello stesso inglese volando sulla sua destra determinante come sempre in stagione il portiere ex internazionale di Porto Alegre Roma in dieci ma la musica non cambia al 65esimo azione personale di El Sharawi che supera in velocità l'intera difesa Clivenze e brucia di destro Sorrentino per il 3-0 settimo gol in campionato per il numero 92 ex Milan e Genoa i giallorossi non sono sazi lo dimostra ancora Edin Dzeko che fa il bis con uno splendido sinistro da fuori area rete numero 16 in campionato per il bomber bosniaco per il 4-0 la squadra veneta ha il merito di trovare la rete della bandiera all'87esimo sul corner battuto da destra grande stacco aereo di inglese che anticipa Gonalon e batte Allison finisce così 4-1 per Roma che sale a 70 punti al terzo posto in solitaria prossimo appuntamento con il team di Di Francesco mercoledì sera in Champions per il return match di semifinale contro il Liverpool di Jurgen Klopp su questa partita non ci andremo neanche tantissimo perché ormai la testa di tutti è su Liverpool questa è stata una partita liquidata in pochi minuti senti intanto ci distrai un attimo mi racconti ancora qualcosa del tuo spettacolo qualche altro sogno qualche altro sogno mi piace tanto beh io credo che prima del mio debutto c'è il sogno di tutti i tifosi romanisti ma un po' di molti sportivi italiani che la Roma magari faccia questo miracolo io lo chiedilo a lui è diverso professore però ti aspetto a teatro ovviamente con il figliolo vengo bravo vengo con Vincenzo con Vincenzo sarà fatto per esempio ci sono non solo quelli personaggi ci sono i sogni comuni quelli che sicuramente sono quelli democratici che riguardano tutti che ne so che che ne so che tua suocera perde l'uso della voce della testa delle mani insomma perde l'uso della suocera per esempio oppure non trovare nessuno ha la banca la posta dal dottore ecco questa cosa che uno bravo uno quando va dal dottore se ci pensa io ci va perché c'ha un problema devo perdere tutta la giornata questi vecchietti una volta sono entrato uno credo mi ha detto poi parlo con però tu sei professore è diverso però il medico lo dava mutuo capito sono entrato e ho fatto è tanto che aspetta dici guarda io sono entrato per pediatra mocio la prostata per far cioè ci stanno queste queste dinamiche e ci sta quello che non te fa mai passavanti quella che fa la vaga che entra l'ultima e fa che tocca a me signora siamo 20 ah perché voi siete per il dottore no noi siamo appassionati dei rivisti del 2010 facciamo il giovedì pomeriggio c'è un raduno e le leggiamo tutte quindi ci stanno queste queste dinamiche si si andrà un po' a scartabellare tutti tutti i sogni quelli personali quelli indotti e si toccheranno anche qualcosa di sociale tipo il bullismo ma magari ne parliamo dopo il titolo quando tutti dormono quando tutti dormono quando tutti dormono che è un po' la riedizione del film che ho fatto teatro scusa che non terzo de molena a via di erzo via di gianna margherita quando io ho fatto il film sull'ultimo scudetto era in dreams quindi è certo il riferimento il riferimento ci può essere va bene allora nessun esonero ancora il Liverpool stavi dicendo sì per tacca Liverpool allora ovviamente so fammelo levare subito questo problema perché lo conosco lui smagna deve chiederti qualcosa lo so no ne abbiamo già considerando che la Roma deve recuperare tu da allenatore giocheresti a tre o a quattro e che formazione faresti proprio secondo me visto l'andata a dieci gioca quattro e tre secondo me visto l'andata perché giocare a tre e lasciare contro piede a loro uno contro uno ancora una volta dietro quello che avrebbe dovuto fare all'andata ma lì secondo me più che dillo dillo no secondo me lì è dillo secondo me non voleva giocare più a cinque che a tre e non ci è riuscito perché loro sono stati molto bravi secondo me preparata benissimo da Klopp che ha stretto tutti e due i giocatori Firmino portava fuori i difensori e gli altri andavano dietro le spalle perché hanno tutte e due le al diciamo Salah e Manetti stringevano stringevano andavano a giocare proprio uno contro uno contro Juan Jesus e Fazio e loro saltavano e loro saltavano e Salah non è stato mai raddoppiato però perdonati poi quando vai nei meandri tattici ti riprendo al cuore Marcello scusa chiedo la tua saggezza secondo te che cosa sarebbe accaduto se con i tre con l'aggressione alta che aveva fatto come col Barcellona mi era piaciuto tantissimo l'inizio di Liverpool Roma la Roma mi era piaciuta tanto invece di prendere la traversa la Roma andava in gol che cosa si sarebbe detto adesso può cambiare come può cambiare cambia sicuro cambia però non credo che cambi poi alla fine il risultato non nella composizione dei numeri ma sicuramente difficilmente l'avrebbe pareggiata quella partita perché la Roma ha perso tenuta mentale nei minuti centrali della partita dove le partite si realizzano vuol dire dopo dal quindicesimo del primo tempo ai 25-30 ma se lo fai con lo 0-1 di vantaggio vedi come cambiano le cose la Roma ha un problema che è quello che ha tenuto mentale la Roma quando prende un rischio infatti la partita secondo me è cambiata anche quando c'è stato si è messa a paura si è messa a paura quindi non ha più restato più alto si sono allinguate le parti si sono creati di spazi e quelli si infilavano però rispetto alla partita del Barcellona il Barcellona è una squadra che dal portiere costruisce il Liverpool fa due tocchi la metà campo loro e te la buttano per Coverciano quindi anzi se gli puoi dare una mano grazie invece mi rivolgo a te non pensi sia stata una pistola alla tempia One Jesus contro Salah cioè in quel caso perché tu hai fatto delle osservazioni che sono ineccepibili ma se tu ti presenti lì indipendentemente dalla formula dal 3-5 tu devi capire che One Jesus contro Salah è una pistola puntata alla tempia allora se tu hai un giocatore che è più idoneo allora eventualmente tu ti ricordi del Barcellona ma in quel caso io credo sia stato un eccesso di fiducia è la partita che ha messo Salah contro Salah che è andato a giocare uno contro uno il problema è che mentre col Barcellona Manolas messo lì apposta poteva fare le coperture con tre attaccanti Manolas era impegnato su Firmino che lo portava un po' fuori e poi è diventato lì uno contro uno quello che voleva fare mentre Barcellona come esiste anche Kolarov lì che non deve pensare solo andare a fare i gol lì è Kolarov quindi non è l'allenatore ma che c'è se Koviciano quando vai su non è l'allenatore se Kolarov rimane a metà non è l'allenatore mentre Barcellona ha dei ritmi che ti consentono la partita che tu hai fatto anche là l'hai fatta bene la partita e Liverpool no perché il Liverpool ha una velocità che ha messo in bambola l'intensità inglese posso dire che la speranza della Roma è Knopp no ma Knopp è un grande allenatore ha fatto quell'errore ma che guarda come diceva Giuliano non lo ripete fermi 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 perché sta arrivando lui quando arriva lui io mi devo fermare un attimo Cucine & Co dal 1967 qualità e migliori brand di cucine al vostro servizio Doimo Ernesto Meda Snydero Stosa Scavolini Cucine & Co è progettazione trasporto montaggio tutto gratuito con montatori esperti interni all'azienda promozioni tutto l'anno mille metri quadrati di cucine in mostra ed elettrodomestici dei migliori marchi scontati fino al 50% per i telespettatori di Teleroma 56 con cucina completa di elettrodomestici una lavastoviglie miele a incasso in regalo Cucine & Co la nostra forza è la qualità a prezzi imbattibili Allora stanno continuando a discutere dove ho lasciato tu che cos'è che avresti fatto all'intervallo secondo me sono le difficoltà della Roma perché ormai era veramente un uno contro uno con 60 metri da coprire chiaramente Fazio Juan Jesus e è impossibile che corano dietro Amane e Salah è chiaro che secondo me forse tra prima e secondo tempo mettersi avanti la squadra si è allungata i reparti si sono allungati molto secondo me Knopp stava per rovinare tutto a favore della Roma ma no perché guarda l'uno contro uno di cui stanno parlando Juan Jesus Salah lo crea Klopp con quel movimento di Firmino a rientrare ho capito poi leva Salah e finita la Roma pensava di aver chiuso dai lì è l'errore però per me la partita cambia quando Manessi mangia quel gol lì la Roma si terrorizza non pressa più alto no non è che qualcuno lo fa qualcuno no e quindi si allunga che è la cosa peggiore magari che vanno tutti avanti c'è un senso ma invece se qualcuno lo fa qualcuno no però posso fare una sessantasettesima quale allenatore vorrete perché c'è il rego di Francesco Palletti non va bene di Francesco non va bene che vuoi puoi dire quale è la cosa che ti piace non posso chiedere una guardiola fa per sentire i mici fa per sentire i mici al di là del piccolo gruppo hai mai iniziato di mettere su un'accademia di tecnici qui di che può darti anche delle soddisfazioni può darti anche delle giorni un'accademia di caldai cercano uno alla nazionale ma che stai a scherzare posso andare io certo grazie ci possiamo chiedere l'ultima cosa non si passa dal sasquolo alla Champions League così qualche errore si fa il Francesco lo sta facendo come si spiega non esagerare ci provo come si spiega da voi romanisti che si vende Salah a 40 milioni e si compra chi l'ha spiegato Monci l'ha spiegato perché se non l'avesse venduto a parte non l'ha venduto a parte che non l'ha venduto a 40 ma l'ha venduto a 48 più bonus più IVA ma dire che se non avessero venduto Salah la Roma non stava in Champions League ragazzi lui ha detto questo questa è una fesseria la Roma era qualificata in Champions League come poteva non partecipare la Roma era qualificata in Champions League e allora che faceva veniva squalificata ha detto che la Roma è una motivazione che non è regge allora inventiamocela noi ma non è che era una motivazione l'ha venduto a 48 e ne hai presi due a 70 che non hanno fatto il momento del mercato era quello quindi l'ha venduto bene 50 milioni a giugno io sono d'accordo che in quel momento sembrava bella fare però non si può dire non ci erano stati botti di Mappé di Coutinho di Neymar quindi 50 milioni in quel momento ma tuttora se vai indietro di un anno è un affare poi è esploso di nuovo ma questo non lo puoi prevedere prima del 30 giugno domani il problema del bilancio il giocatore più importante è anche abbassato no ma c'è anche la grande volontà di Salah di andare perché gli stanno rinnovando il contratto intorno a 11 milioni di euro netti all'anno però non facciamo passare che la Roma non avrebbe fatto la Champions se non vendiva Salah la Roma stava in difficoltà poi dopo questo è un altro discorso però non lo faceva scendere siccome lui qui è in una posizione scopoda che sta vicino a me no è scopoda perché lui sto scomodi sto scomodi sta a fare mi sta venendo scolioso grazie che l'ho presi io grazie no perché poi da qui è difficile intervenire stavi dicendo no dico 11 milioni chi è che l'ha detto 11 milioni di contratto voglio dire una cosetta nel senso se compra nei piramidi l'hai in Egitto con 11 milioni ma infatti lui ha preso un milione di voti ha preso un milione di voti lui senza essere candidato a nessuna diciamo carica quando ci sono state le elezioni di incitto ha preso un milione di voti invece di scheda bianca e a raggio è diventato sin tecco così senza senza hai fatto un riferimento alla sportività di Leiva che è uno sportivo perché si congratula con Sirico Salah ha fatto una cosa veramente sentita quando non ha esultato nelle due circostanze del gol si vedeva che era sentita si vedeva che lui non voleva mortificare la Roma sai perché ti appoggio questa cosa perché io detesto quelli che non esultano non era ipocrita però anche io era sincero però hai visto lui fa sempre adesso lui fa sempre così no 11 milioni 11 milioni con questo donna lì non è male non è male l'atmosfera bellissima bellissima è un po' bulla questo è assist questo è assist un assist ignobbile perché stavo parlando prima dell'ironia tra l'altro su un fatto così importante beh sì oddio si andrà a parlare anche un pochettino in maniera seria del bullismo ovviamente il filtro rimane rimane comico perché poi mentre prima i professori ai tempi mei andavano a scuola i professori interrogavano adesso i professori ci sepuliscono lavagna gli eminano chi caschi cioè è diventata una figura un po' un po' particolare quindi non potevo esimermi nell'analizzare il fenomeno e io credo che il bullismo ci è sempre stato adesso c'è l'emergenza e c'è il termine poi e c'è il termine e c'è il termine c'è il social c'è la ripresa però io quando ero ragazzo a me me menavano tutti cioè nel senso era una giusta tornazione poi diventavi grande te però c'era un punto di non ritorno che era adesso lo dico a papà e lì finiva perché avevamo delle delle metodologie per insegnare ai figli come non si diventava bulli c'era lo stimolo educativo detto anche la ciavatta di mia madre e poi c'era la prospettiva correttiva pedagogica che era adesso arriva papà e te da resto io non ho mai preso c'è credito che tuttora quando pago io pago i soldi contati perché non voglio resto da nessuno sono terrorizzato da terreno mio padre quando diceva conto fino a tre altro che bullismo a parte che conto fino a tre io ho imparato tutte le religioni del mondo perché lui faceva uno io recitavo il Vangelo e l'Ave Maria una botta pure di eterno riposo così mettevo le mani avanti sul due induismo sciamanesimo ecco il Corano perché se non altro se morivo avevo 40 vergi e mi aspettavano sul terreno ero diventato completamente buddista perché visto quello che mi aspettava almeno puntavo tutto sulla rincarnazione che grande tra l'altro sai che mi hai ricordato una cosa deliziosa di infanzia che mio padre contava fino a tre e sai che faceva però faceva uno due due e mezzo due e tre quarti mi diceva mi hai ricordato questa cosa come mentre tu cos'è che temevi la ciabatta di tua mamma ovvio la nostra generazione temeva il battipanni o la cucchiarella pure la cucchiarella di l'inverno anche l'ombrello vedi battipanni scusa tu delle violenze vere di dove sei dove sei nato Frosinone Castrocero 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 provincia di Frosinone però c'era la cucchiarella ombrelli ciao a te c'era il tutto c'era il elementare che ce l'ha pacchettata sulle mani adesso andiamo a parlare di questi abusi subiti Michele che hai fatto fare il spettacolo ricorda dove sarà allora per chi gli hai fatto fare qui per chi non ha sentito qui e che quindi vuol sentire altre cose lo ricordiamo ancora teatro dirso di Molina da giovedì prossimo no perché questo io ti ripeto io poi sono andato nell'ultimo spettacolo al puff bellissimo a parte un'atmosfera bella loro poi di una gentilezza e ospitalità straordinaria va bene allora andiamo un attimo a sentire invece alcuni messaggi di Facebook e andiamo dalla nostra Chiara botta e risposta vai iniziamo con la prima domanda per Gianni Chedda meglio la coppia Luis Alberto Caicedo oppure Felipe Anderson Caicedo per questo finale di stagione da parte di Filippo abbiamo detto prima con l'Atalanta secondo me un giocatore veloce come Felipe Anderson può far comodo perché l'Atalanta è una squadra che attacca sempre molto alto e allora lascia un po' di spazio l'Atalanta è un po' di ciociaro l'Atalanta è un po' di ciociaro 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 bellissimo ha risposto scusate andiamo all'uno ancora alla seconda Michele cosa è successo al Napoli dopo la partita di Torino una prestazione del genere del genere non era preventivabile Maurizio no no io parlo spesso di psicologia di gruppo contavo che avesse più tempo Sarri per preparare dopo la botta avuta ieri siccome era successo dopo Lazio Juve che però entrarono in campo subito ti posso aggiungere una cosa finisco e poi e quindi pensavo che ci fosse tempo per preparare la situazione vedi l'importanza di giocare tutte e quattro ma mi fate finire no l'importanza di farli giocare in contemporanea sì sì io sono d'accordo con te su questo ma adesso al di là di tutto se ti dimentichi che danno poi poi che brava persona che ci sono le casualità no finisce subito in dieci poi ci sono delle cose che ti fanno capire come le vie no vanno d'altra parte ma non è finita Michele la botta di ieri sicuramente tu dici a quattro punti non è finita no questo è un campionato dove la sorpresa è dietro la la botta di ieri sicuramente ma hanno festeggiato lo scudetto a Napoli la partita contro la Juve hanno festeggiato come se avessero vinto lo scudetto e questo scarica anche i giocatori no 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 è vero Michele fidati perché mi risulta che a Napoli abbiano fatto proprio ragazzi vinci con la Juve riapri il discorso del campionato e ho capito ma è un popolo d'amore non è uno che lo freni dici no non faccio questo perché altrimenti la squadra se cala oppure scaramanzi no quelli che appena è finita la partita da gol all'ultimo minuto sono usciti e ti dico la verità uscivo pure io in una situazione del genere lo sfogo vinci con il gol di Coulibaly alla fine poi a volte la sagliatura con Coulibaly è quello che è spulso oggi se ci sono giocati insieme cambiava la partita andiamo avanti andiamo avanti allora Chiara Giorgio ci scrive che percentuale ha la Roma di passare il turno e arrivare in finale ai 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 questo è bello rapidissimo sondaggio che percentuale ha 25 25 la Roma parli 10 10 andiamo a carrellata 20 20 0 Giuliano 20 20 50% 50% grazie grazie professore 15% 25 per cento ho detto ma che è mercante in fiera ho detto anche la mia che c'è mercante in fiera mercante in fiera compravi la carta compravi la carta è proprio strano è tardi Michele scusami mercante in fiera ognuno so gioca un po' come io 10 ma bisogna crederci però 10 ma bisogna crederci lì ci vedono tu avevi delle informazioni vero? sì perché non è ancora ufficiale perché ci saranno ulteriori accertamenti nella giornata di domani ma sembra sempre più sicura la prima di agnosi a caldo per l'infortunio di immobile si tratterebbe di uno stiramento al bicipite femorale però in questo caso potrebbe salire la stagione tempi in questi casi? io l'ho detto in televisione quando l'ho visto tempi? un mese minimo un mese quindi è finita qua finito il capo un attimo solo siamo nel finale prima della telepromozione voglio ricordare che Stefano Renzi fa parte del nostro gruppo del social football tv.com quindi se la regina mi dà l'ok vediamo lo spot che piace tanto a Marcello d'accordo? prego prego per la telepromozione per la telepromozione Grazie a tutti. 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 Parla del fatto che la Roma deve attaccare per forza e quindi il pericolo è il contropiede. Attaccare non vuol dire suicidarsi. Sì, però è chiaro che... Con criterio, attaccare con criterio. Lui è andato al massacro come idea, è chiaro che il pericolo sia quello, però su questo non credo che ci sia nessun dubbio. Chiara, grazie perché purtroppo il tempo scorre, siamo quasi nel finale, ma so che ce n'erano tanti, è vero? In genere si dice, però è proprio la verità, è così, no? Sì, esatto, ce n'erano ancora un pochini, ma non importa. Ok, grazie allora, grazie a Chiara anche per il lavoro svolto così come quello di Stefano Renzi. Torniamo un attimo noi in questo finale, finale che ci ridedichiamo tutti. Prima però, con il ricordo che il sabato e la domenica sono sempre aperti gli amici di Agostemac e quindi Maurizio Celoni, il nostro sponsor Opel da sempre. Ho dimenticato la mia borsa. Vai, vai, lentamente, guarda, la mia borsa era ancora lì. E la tua borsa bacia bene? Il nuovo Opel Crossland X, con la telecamera posteriore a 180 gradi che può vedere persino dietro gli angoli, in prima assoluta. It's a good life. A proposito dei sogni, tu c'erai con il papà che dice che stai con la figlia. No, la macchina è meravigliosa, con le telecamere. Vabbè, ma è che divertente, infatti ne stiamo parlando. Sì, sì, sì. Vi prego, non mi uccide, ma con gli sponsor, ti prego. Ma tra l'altro ce l'ho, ce l'ho da sempre. Ce l'ho, ce l'ho da sempre, vabbè. Brutta cosa. Ce l'ho, ce l'ho da sempre. Ma andrei avanti. Allora, intanto vorrei il ricordo ancora di quello che ci ha detto. che ci sarà in questi giorni con il nostro Marco Capretti. Sì, vabbè, ormai... Lo fanno tutti ormai. Un tormentone. Vabbè, cambiano sempre l'ascolto, non possiamo pensare dal primo minuto, tutti seguono noi. Da giovedì 3, per tutta la settimana, al Teatro Tirso di Molina, alle ore 21, il nuovo spettacolo, scritto insieme a Gianluca Irti e a Fabrizio Nardi. Appunto, Quando tutti dormono, è un spettacolo tutto ambientato sul mondo dei sogni, che sono poi sostanzialmente un qualcosa della quale noi tutti non possiamo farne a meno. Tutti quanti sogniamo, venite a farvi due risate sul mondo dei sogni. Marco è una garanzia, e ve lo dice tra l'altro uno che è appassionato di comicità surreale, io sono malato, e devo dire che lui è una macina, da questo punto di vista... Bravissimo, Marco è bravissimo. Sapete dove è bravo per me, per carità, cioè non sono nessuno dal punto di vista di critico teatrale, ma per il gusto mio, perché lui alterna la battuta di presa immediata, no? Tu che hai fatto anche l'attore, quindi c'ha quello, per cui tu fai la battuta e il pubblico lì. Poi c'ha quella che ci pensi dopo un po', che è il massimo. Lui alterna queste due situazioni che mi fanno impazzire. C'è questa gente che mi chiama e dice che nel 72 hai fatto quella battuta, perché spesso esagero su sta cosa e le capisco dopo troppo tempo, però ogni tanto funziona così. Grazie, sei gentile. No, no, perché è proprio una cosa che sento, quindi ovviamente non ti faccio nessun augurio di scala. Anche Filippo ha fatto l'attore, però. Fermi, 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 finale, finale, scusate, ma è una domanda di rito che la facciamo ogni volta. Ormai è Roma, è Lazio, Champions, per te? Al volo. 85%. Per te? 90%. 90%. Per te? 100%. Quattro punti sono fondamentali. Sono già nella lista UEFA 2018-2019. Per te Andrea? 70%. 70%. Concludo con un'altra cosa, per te? 80%. 80%. Invece, invece, hanno partito da lui. Risultato di Roma-Riverpool? No, mi chiedi troppo, passato il tempo non lo puoi dire. Giuliano? Ma non lo so, è difficile. Un altro non lo so, è difficile. 3 a 2. 3 a 2, vittoria, ma non si qualifica. 3 a 2 per la Roma. Pino? 3 a 1 per la Roma. 3 a 1, che è prezzo. Comunque non si qualifica uguale. Marcello? 1 a 1. 1 a 1. 0 a 0. 0 a 0, il tuo? Ovviamente 4 a 1 per la Roma. 4 a 1? Passiamo noi. Passa la Roma. Almeno uno che passa. Passa? Michele, si è indovinato il risultato. Tutta Roma a vedere lo spettacolo al Tirso de Molina. Ma vengono uguali, eccolo qua. E' che è un premio. Gli dai il premio. Ce lo meritano. Allora, io non dico niente. Io non dico niente. E' un fenomeno. Allora, detto questo... Perché lei non dice passi con il risultato? Esatto. Perché per me è più difficile, come invece avevo pronosticato favorevolmente per Roma e Barcellona, ma avevano preso tutti per Marti. Questa è più difficile, per cui o se vince è 4 a 1 o la perde. Non c'è una via di mezzo. Perché magari arriva lo scoramento e allora può... Cioè, non c'è... Almeno non c'è... Non c'è proprio via di mezzo. Non c'è... Sensazione, eh? Ne sbaglio tanto. Grazie ad Alberto Cangigliotto in regia e tutta l'equip che lui ha diretto. Grazie ad Andrea Bertoli e Stefano Scaglietti, autori della trasmissione. Allora, un saluto alla nostra Chiara che già avevo fatto, ma glielo rifaccio con tanto piacere. Ciao Chiara, grazie. Ciao, buonanotte di nuovo. Grazie per i vostri messaggi. Bene, allora, tra l'altro ringrazio invece il nostro Geroca Guarnieri che sta dietro le quinte. La nostra storia di redazione, l'altro pezzo di storia è qui che adesso poi li vado a salutare. Allora, grazie Renato. Grazie a te Michele, buonasera. Grazie Giuliano. Complimenti per l'approccio perché è stata una trasmissione che mi sembra che è passata velocissima perché hai dato subito una scarica, secondo me emotiva, importante stasera. Ce l'avevamo messi un po' d'accordo, però in realtà ho fatto l'approccio alla partita... Perfetto. di quello forte. Sei entrato subito, partita salvezza, o da campionato vuoi dire. Va bene, o, ora non lo ridico più, non vi, con la vi l'avevamo già bruciata. No, vabbè, ormai se ne parla... Eh, ormai se ne parla al prossimo. Tra un po', tra un po'. Tra un prossimo, dai, 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 prossimo campionato. Questo allenatore è nato, ragazzi, è veramente sprecato con noi. Allora, grazie signor Filippo. Ci vediamo tutti a Coverciano. Sì, lo vedo lei che insegna a lui. Ok. Grazie Pino, grazie. Non mi cambiare più la triade, non la voglio, la voglio sempre così. Eh, vabbè, però poi c'è Alberto, si arrabbia. Vabbè, Alberto lo mettiamo lì. E beh, se poi c'è Nela? Eh, vabbè. Eh, scusa, io non puoi dire, sì, vabbè. Vuoi loro tu, eh? Alber, se stai sentendo... Ma non ti sembra una cosa anche irreverente questo... Sì, ciao a tutti, ciao a Andrea, che è l'altro nostro... La nostra della storia, grazie a Stefano ancora, grazie a tutta la nostra equip. Grazie a te. Grazie a te Michele. Ci vediamo alla prossima settimana. No, ci vediamo a fine settimana, per la prossima, eh? Soprattutto per lo spettacolo. Buon proseguimento. Grazie per avermi distratto innanzitutto. Grazie a te.